Dopo una settimana di chiacchiere, di polemiche, tra poco il superdebby, tutti pronti, tutti tesi, con lo sguardo giusto per affrontare un impegno molto importante. Errore grave, il portiere smetta il pericolo. Occasione, una bomba, palla dentro, c'è il gol, che inizio, grande partenza. Sono partiti benissimo, non è un caso che abbiano subito trovato il vantaggio. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Uno straordinario inizio di gara. Un avvio strepitoso, ma la partita è ancora lunga. C'è fallo, punizione. Dalla lunga distanza, soprattutto un po' di centrata, la punizione della palla. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Vete in mezzo! Pericolo? Attenzione! Ratta! 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 Vlatte! Vlatte! Bravo! Golla! Importantissima! Strepitoso è stato l'assist che ha proprio addomisticato, ha controllato la palla, gliel'ha ammorbidita. I'm looking for your face, waiting for a warm up, I'm living in the space, I'm following the trees, tell me what's going on, tell me what's going on, I'm gonna make it queen, girl I'll never see. C'è un salvo, troppo agonissimo, caccia di punizione. L'arbitro si avvicina e qui può essersi il cartellino che infatti arriva, cartellino giallo. But everything you want of me won't be lonely, I can't see your face too strong, You sing you want a finger in my own mind, not to ever satisfy my soul in every by my side. C'è un salvo, pulizzo! Dalla lunga distanza, soprattutto un po' di centrata, la coesione della palla. Vlatte! Vlatte! Faventino, Traversa Clavorosa! Con questo gol rientrano decisamente in partita. Grande recupero e perfetta scelta di tempo. Un errore abbastanza clamoroso della difesa, questo è veramente un gol regalato. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta, ecco nella prova. Ha sprecato la grande opportunità. La sua frustrazione è giustificata. Poteva fare molto meglio di così e lo sa.